Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival La grande festa del cinema indipendente e internazionale Tre grandi eventi ad ingresso gratuito 10 novembre Notte Horror 11 novembre Animazione e cortometraggi 12 novembre Documentari e lungometraggi Dal 10 al 12 novembre Voghera Film Festival 2017 Al The Space Cinema di Montebello della Battaglia Buongiorno a tutti, ci troviamo con Valerio Merlini Uno dei referenti del progetto Quartieri Voghera 2020 dell'Italia del Rispetto Che ha raccolto alcune dichiarazioni da parte dei cittadini Che abitano in strada valle Che cosa sta succedendo? Allora, in zona strada valle Praticamente c'è un disagio per la gente Sia pedoni e anche gente che va in bici Perché lo spazio delineato fra la strada e una carreggiata delimitata Non è segnata, cioè in teoria Praticamente anche uno in bicicletta deve stare molto attento Perché quando uno esce dal passo carraio Può essere, rischia di essere investito Lei è andato a verificare di persona tutto questo? Sì, abbiamo verificato di persona tramite la mentele degli abitanti di strada valle E ho provato anche di persona io Quindi cosa si sente di chiedere a questo punto l'amministrazione? L'amministrazione comunale che possa intervenire a fare degli spazi appositi per i pedoni E mettere le righe bianche E mettere in sicurezza anche la gente che frequenta strada valle moltissimo in bici Cioè, per essere sicuri, ecco Questa è la prima delle segnalazioni che arrivano da quando è stato avviato questo progetto Dei quartieri da parte dell'Italia del Rispetto Cosa ne pensa di questo progetto? Come si sente a livello di coinvolgimento? Allora, io ringrazio il signor Fabio Quilini Che mi dà questa possibilità di fare qualcosa per il mio quartiere Anche per Voghera E cercheremo di fare sempre iniziative per il pubblico E cercare di portare migliorie nelle nostre zone Grazie, buon lavoro Grazie a voi